e ciao a tutti ragazzi sono slenderman italia e oggi siamo su siamo su che è l'off battlefield è un gioco sui zombie già ci ho giocato prima una partita è sbloccato quest'anno come call of duty chi lo conosce black ops 2 zombie è giustato è aperto no aia chi è aia morite si la pubblicità m4 eccola qua ragazzi potentissima questa ce l'ho si è fatta la secondaria potenziali al massimo la mattina di valenza al massimo che qui ricarichiamo la seconda parte del massimo si ecco aggiustiamo già ho visto uno zombie guardate le geometri che te lo faccio prendere no 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 lì giù sono quelli bambini uomini nudi maledetta pubblicità no no che cosa è questo no no oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio ZOMBI che adesso mi ha detto che faccio una spada e non è me muore ragazzi io metto un po' potente oh mio Dio oh mio Dio no oh mio Dio oh mio Dio oh mio Dio curati oh mio Dio chiuditi no è un ucciso ok ragazzi questo video è leggermente corto ma ci vedremo alla prossima puntata e questo qua che è l'off battlefield lo troverete e poi potremo giocare anche si con la pubblicità potremo giocare ci connetteremo ai server ragazzi continua mi troverete sempre su qui X-Rine November 3 ok ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao